Un grande abbraccio anche per questo gruppo di Giuliano, quindi anche per loro ci sarà la possibilità di utilizzare la struttura piena, di passare anche loro una giornata con noi qua in allegria. Il mare per tutti è senza difficoltà. Per quest'ultimo scorcio d'estate sarà concreto il progetto portato avanti dai servizi sociali del comune di Giuliano, ovvero una spiaggia aperta ai diversamente abili che consenta loro di usufruire dei servizi senza impedimenti. La struttura che ospiterà il progetto per i mesi di agosto e settembre sarà il Lido Soara di Licola Mare. Da anni già la nostra struttura collabora con altre associazioni di diversamente abili, in modo tale che loro non si sentano emarginati, vengono accolti direttamente nella nostra struttura, utilizzano i servizi, passano una giornata tranquillamente al mare o più giornate. Per far vivere loro un momento di quotidianità quest'anno, anche con il comune di Giuliano, c'è stata questa nuova iniziativa ed è stata accolta a braccio aperto, un grande abbraccio anche per questo gruppo di Giuliano. Quindi anche per loro ci sarà la possibilità di utilizzare la struttura piena, di passare anche loro una giornata con noi qua in allegria.